I lavori per riqualificare e ammodernare Prodenone vanno avanti. Coinvolte anche le vie San Valentino e Piave, con inevitabile impatto sulla viabilità. In questi giorni viene chiuso la circolazione e il tratto all'altezza del sovrappasso dei sindacati, con deviazioni indicate sul posto. Siamo arrivati a concludere le fasi relative alla realizzazione del nuovo acquedotto. Adesso parte la fognatura. In questa prima fase verrà chiuso il tratto di viabilità sotto il sovrappasso della Statale 13 della Pontebana, che è un punto nevralgico abbastanza importante e trafficato. Per cui è bene che venga fatto in questo periodo dell'anno in cui ancora non ci sono le scuole aperte. I lavori dureranno diverse settimane e il cantiere si sposterà progressivamente verso Prodenone. Lavori impattanti, lavori che non si vedono, però fondamentali, specie dal punto di vista ecologico. Assolutamente sì, perché la fognatura sappiamo che a Torre proprio non c'è. In questo momento gli scarichi vengono dirottati direttamente nelle roge che poi confluiscono nel noncello. Quindi è un'azione essenziale per poter garantire una città con un'elevata qualità della vita e una sicurezza igienico-sanitaria fondamentale anche per evitare di vederci commissariati, perché sappiamo che le fognature sono un elemento obbligatorio per la comunità europea.